E' quasi ormai in dirittura d'arrivo, stiamo soltanto cercando di coinvolgere da subito quanto più possibile anche gli altri gruppi politici, ma ormai è chiusa con le maggiori forze politiche e con le liste civiche. Accenderemo delle luci sul Palatricalle e anche sulla mia candidatura. Quindi centrodestra unito per le prossime elezioni? Questo è quello su cui stiamo lavorando, manca ancora l'Udc all'appello, ma sono certo che con loro troveremo il modo e il motivo per continuare a stare insieme. Lei ieri è stato ospite in una nota trasmissione RAI, molti hanno detto che il sindaco ha avuto comunque un bel coraggio in senso positivo a presentarsi dinanzi alle telecamere e a spiegare quello che è accaduto. No, ho avuto il senso del dovere di chi ha l'obbligo di spiegare e di difendere la propria città, soprattutto quando a parlarne è gente che non conosce i fatti, che vuole fare soltanto polemica, che fa solo populismo e cosa ancora peggiore, strumentalizza una situazione gravissima, vergognosa, quella che si è verificata qui a Chieti, la strumentalizza per tirare su l'audience oppure per fare qualche applauso di pubblico pagato. Io credo che ieri ci sia stato un esempio vergognoso invece di come la TV di Stato spende soldi per far fare dei programmucci dove la cronica la si gestisce come se fosse invece un rotocalco. Credo che questo non possa più essere permesso e come dire la mia presenza ieri lì era per difendere Chieti da chi ieri l'avrebbe facilmente infangata come in qualche modo si è tentato di fare.